Ha parlato molto di Sarri anche quest'oggi, ha detto al Presidente non lo faccia mai andare via, è napoletano. Mi pare che è più napoletano di così Simone, anche perché esiste un rapporto, io lo so, tra Sarri e il Presidente, perché sono stati qualche volta da me anche a cena, un rapporto veramente di fiducia e di stima reciproca. E allora, dato che Sarri ha iniziato questo lavoro straordinario, che sta imponendo Napoli all'ammirazione non solo in Italia ma anche all'estero, allora io credo che questo cammino deve continuare a essere fatto insieme, perché l'uno completa l'altro in qualche maniera. Sarri non può fare tutto senza il Presidente e il Presidente ha bisogno di Sarri per realizzare questo sogno.